Eccoci tornati di nuovo insieme a Tempo d'Estate, vi raccontiamo una storia che ha come protagoniste due persone legate ai frati, legate a Padre Pio. Loro sono Antonietta Crucinio e Giuseppe Foschi, responsabili del gruppo di preghiera Maria Immacolata di San Nicandro Garganico. Buongiorno, benvenuti. Ciao Antonietta, ciao Giuseppe. Allora, partiamo con un evento che state organizzando, 23 luglio di quest'anno ci sarà un pellegrinaggio a piedi, notturna, da San Nicandro a San Giovanni Rotondo. Un pellegrinaggio che però ha origini lontane, è vero Antonietta? Sì, sì. Era vivo Padre Pio? Era vivo Padre Pio. Raccontaci questa storia. La data precisa non la conosciamo, però si pensa, perché io ho vissuto quel periodo, insieme ad una figlia spirituale, la prima figlia spirituale di Padre Pio, Titina D'Amato, che nel 1957-58 ha chiesto a Padre Pio di fare questo pellegrinaggio. Padre Pio ha detto di sì e ha deciso questa figlia spirituale. Il 18 luglio ha chiesto a Padre Pio, va bene, e così abbiamo fatto per diversi anni questo pellegrinaggio. 18 luglio perché questa data ha un significato, vero? Il 18 luglio, sì, era il compleanno del primo figlio di questa signora, perché questa signora è stata un'anima bellissima, provata, ha tanti figli, tante prove, e poi dopo ha avuto un contatto diretto e è durato fino alla sua vita con Padre Pio. L'ultimo pellegrinaggio l'abbiamo fatto il 18 luglio del 1968, fino a Borgo Celano, San Nicandro a Borgo Celano, ed è arrivato un temporale che ci siamo rifugiate nelle case delle persone e poi non si è fatto più. È passato tanto tempo, un giorno abbiamo pensato con mio marito di riprendere questo pellegrinaggio ad uso famiglia, perché noi siamo una famiglia numerosa, tre sorelle, i nipoti, e così è stato. Il primo anno eravamo 13-14 persone, il secondo anno tante persone che non ci sono più e che ricordiamo sempre, e che ci sono ancora perché vengono. Piano piano è stato un crescente, piano piano, piano piano. Poi abbiamo cominciato ad essere un po' più organizzati, in che senso? Chiamando un medico, veniva sempre con noi Michele Pacilli, il dottore che sta a Casa Sollievo, che quest'anno ci dà l'onore di venire ancora. Poi abbiamo pensato all'autombulanza, la Croce Rossa ci è stata sempre vicino, l'Avers, e così quest'anno, dopo due anni, abbiamo sentito il bisogno perché stiamo vivendo, non ce ne accorgiamo, ma stiamo vivendo momenti difficili, covid, guerra, non c'è più pace, allora ci vuole preghiera, sacrificio, perché questo pellegrinaggio è molto bello, in quanto la notte si cammina pregando, cantando e tanto silenzio e sofferenza. Allora Antonietta, tra qualche istante torneremo al programma di questo pellegrinaggio, cominciate a prendere nota, 23 luglio, quindi se siete interessati poi vi daremo anche modo di mettervi in contatto con Antonietta e Giuseppe. Avete ripreso questo pellegrinaggio che si è interrotto, però torniamo anche a quando padre Paolino Cilenti vi ha preso in disparte, eravate in sacrestia e vi ha chiesto una cosa. Chi lo vuole raccontare? Noi, dunque, dopo la morte di padre Pio venivamo, perché il faro è la chiamata, non lo so come definirla, e venivamo sempre, sempre qui a San Giovanni, tutte le funzioni, tutte le occasioni, ma soprattutto il 23 settembre. Eravamo con un bullman, c'era la concelebrazione fuori, padre Paolino ha detto a chi aspettate a fare un gruppo di preghiera? Ha detto, fatto, abbiamo formato il gruppo di preghiera a San Nicandro e piano piano adesso è diventato un bel gruppo. Non vogliamo fare un elogio al gruppo, ma siamo circondate da gente brava, gente piena di responsabilità, sono sempre presenti e questa è una grazia di Dio, veramente. Mio marito ed io siamo ancora responsabili, nonostante gli anni, ci vogliono ancora. Il momento in cui non ci vogliono più, saremo ben felici di dare queste gioie che sentiamo a chi viene dopo di noi. Il cosiddetto passaggio del testimone, magari a qualcuno un po' più, ma non dico perché comunque avete energia da vendere, si vede anche entusiasmo nel raccontare quello che state facendo perché appunto prima di questa intervista abbiamo chiacchierato molto. A questo proposito, a proposito di gruppi di preghiera, siete stati anche, potremmo dire, i fautori di cinque gruppi di preghiera a Palma de Mallorca. Sì, benissimo. A Palma de Mallorca è venuto tramite il nipote di Titina d'Amato, che aveva e ha ancora, adesso non c'è più, un ristorante a Parigi. Lui era amico di questo signore, questo avvocato, è venuto qui a San Giovanni e poi sono venuti in campagna. La messa è celebrata il Ferragosto da padre Paolino, mio marito ha detto Antonio perché non formi un gruppo di preghiera a Palma de Mallorca? Lui è andato a Palma de Mallorca, si è organizzato, ha formato, siamo andati con padre Carlo, siamo 13-14 persone ed è stata un'esperienza bellissima. Dopo del primo gruppo ne sono nati ancora, un altro a Barcellona, che siamo stati pure con padre Carlo e adesso siamo a cinque gruppi in Palma. Padre Pio è grandioso perché ci affratella anche in terra straniera e questa è una testimonianza. Allora, torniamo al pellegrinaggio, 23 luglio, appunto a piedi da San Nicandro Garganico, quindi siamo nella provincia di Foggia, ecco vediamo anche la Locandina, da San Nicandro Garganico a San Giovanni Rotondo, in notturna. Allora, qual è il programma? Perché è un pellegrinaggio fatto, mi dicevi prima, titina di Ninetta di Silenzio, Preghiera e Canti. Allora, raccontami un po' come si svolgerà questo pellegrinaggio. Allora, il programma è alle 19 partiamo davanti al monumento di Padre Pio con mezzi propri e raggiungiamo un posto, il Bar San Giuseppe. Sempre a San Nicandro Garganico. Sempre a San Nicandro. Lì c'è un piazzale dove ci fermiamo, facciamo delle preghiere, a volte viene anche la nostra guida, Don Roberto, ci benedice e alle 8 comincia il cammino. Abbiamo due soste per un break e poi un panino verso mezzanotte e si ricomincia il cammino. È faticoso, però è bellissimo. Abbiamo, ripeto, l'autombulanza, il dottore Pacilli, tutta la Lavers, la Croce Rossa, i carabinieri che ci seguono e poi arriviamo, il momento più bello del pellegrinaggio per noi è sotto il santuario di San Matteo, cominciamo la Via Crucis. È una Via Crucis veramente meditata, sentita, con un raccoglimento e la preghiamo per tutte le esigenze, direi, del mondo intero, ma soprattutto delle persone care che non ci sono più e quelle che non possono più camminare con noi, ma sono in casa, abbiamo una signora più grande di noi che è stata sempre con noi, Costantina Grana, un'altra che stanno in casa malati, però ci seguono durante la notte con la preghiera spiritualmente. Vi seguono e vi sostengono con la preghiera. Poi arriviamo al santuario alle sei, alle sei e un quarto c'è la celebrazione, viene la nostra guida spirituale, Don Roberto De Meo, che sono due fratelli sacerdoti, ma lui è diventato la nostra guida spirituale e preghiamo per lui perché ci accarezza. non ha conosciuto Padre Pio, ma lo ama tanto che lo dà anche a tutti quanti noi. E quindi ci sarà appunto la messa alle sei e trenta. Dopo abbiamo il pullman da Fini, da San Giovanni, che ci accompagna a San Nicandro perché la gente poi ha bisogno di riposo. Di riposare, certo, è tutto qua. E quindi questo appunto un po' è il programma di questo pellegrinaggio a piedi, notturna, da San Nicandro a San Giovanni Rotondo, organizzato dal gruppo di preghiera Maria Immacolata appunto della città garganica. Ma voi non vi fermate qui, quindi c'è questa amicizia storica con i frati, c'è fratellanza come diceva Antonietta, ma avete fondato anche l'Avis a San Nicandro Garganico. È vero Giuseppe? Quello fu nel 1969, padre Pellegrino, l'anno che è morto padre Pio, l'anno dopo, faceva il carnevale santificato. Io ero qui alle 5 e mezza alla messa vespertina, c'è stato un appello, la casa sollieva bisogno di sangue, io ero ragazza, corro dopo la messa e vado, non c'era niente, l'Avis ancora a San Giovanni, ho donato nell'ingresso di casa sollievo, in un sottoscale direi, dalla prima donazione ho detto ma perché dobbiamo essere così povere a non dare la possibilità all'ospedale di avere il sangue. A San Nicandro poi sono tornata con un cuore gioioso e con la gioia di mio marito, mio marito altrettanto è entusiasta, abbiamo formato l'Avis che ora sta andando, il presidente è Rocco Frascaria che ha dato tanta importanza, abbiamo avuto altri presidenti e sta andando benissimo e questo è un dono di Dio pure. Siete levati alla copertura totale, un sannicandrese che ha bisogno, non va più a chiedere al parente, al fratello, San Giovanni sa che San Nicandro ha tutto quello che ci vuole, prima andavamo con la macchina fino là a portare lo zero negativo di notte, alle 3 di notte, un anno per un bambino che nasceva, Pavone, corri, corri, corri e insomma siamo riusciti a fare tante cose. Siete diventati autosufficienti, poi mi avete anche raccontato che grazie al vostro gruppo di preghiera che è molto attivo avete organizzato anche un mercatino per l'Ucraina, una tombolata a Natale per l'onquematologia di caso sollevo della sofferenza, siete barellieri e dama dell'Unitalsi quindi andate all'Urd. Servi inutili. No, siete utilissimi, siete indispensabili credo proprio. Il figlio, ripeto, va al Padre Pio che ci vuole, che ci segue, che ci vuole bene e che ci dà ancora tanta tanta gioia. Lo avete conosciuto Padre Pio? Io sono stata figlia spirituale mia. Raccontaci qualcosa Antonietta, se vuoi aprire il cassetto dei ricordi te lo chiedo in punta di piedi, anche solo un ricordo che puoi raccontarci. Ce ne sono tanti, veramente, tanti. Che devo dire? La cosa bella è che io ero molto obbediente a lui, mi confessavo solo da lui. Mio padre era ferroviere e nel periodo in cui doveva andare in pensione noi tre sorelle volevamo andare ce n'è in città, a Torino. Allora vengo da Padre Pio, dico padre papà va in pensione, possiamo andare a Torino per vivere la vita diversa? Allora lui ha detto no signore, no. Chi lascia la via vecchia e prende la nuova sa che lascia e non sa che trova. La prima volta. La seconda volta volevamo stabilirci anche qui a San Giovanni e ha detto di no. Un giorno ho visto un locale che si ristrutturava proprio al centro di San Nicandro, vengo da Padre Pio, con le mie sorelle abbiamo deciso di mettere una boutique per bambine nel 63. Vengo padre, racconto di questo locale, vogliamo mettere una boutique, lui ha detto. E sì signore, quello che voglio pure io. In un mese abbiamo fatto tutto ed è stata una boutique, lo dico, per dare merito a Dio. Un crescente continuo. Bellissima dove ci rincontro. In questo locale è nata tanta fratellanza con l'Avis, con l'Unitalsi, con il gruppo di preghiera. Era un punto di riferimento. Un punto di riferimento. Sì, sì. Siete davvero due persone meravigliose, quindi qualora dovessero esserci altri appuntamenti o eventi legati al vostro gruppo di preghiera, all'Avis. Noi siamo qui perché vogliamo dare visibilità a questo nel nome di Padre Pio. Grazie. Antonietta ci teneva molto a non mostrarsi perché tutto quello che si fa e che si dice è nel nome di Padre Pio. Tu sei uno strumento che in questa giornata lui ha utilizzato per parlare di questo. Allora ricordiamo ancora una volta chiedo alla regia se è possibile di rimandarmi in onda alla locandina. 38esimo pellegrinaggio a piedi da San Nicandro Garganico a San Giovanni Lotondo, sabato 23 luglio 2022. Noi Antonietta Giuseppe vi accompagneremo con la preghiera. Con la preghiera. E chiederemo anche a tutti gli amici di Padre Pio TV che ci seguono di farlo. Quindi grazie, grazie per essere stati con noi. Buona giornata. Io restituisco la linea alla regia. Andiamo in pubblicità e poi ancora insieme.